Salve a tutti amici di Noi Malati di Put, io sono Maxar196 e sono qua oggi per portarvi un nuovo metodo di compravendita Questo metodo consiste in andare a inserire qualità argento, campionato Barclays e prezzo massimo 3500 crediti Dopodiché dovete andare a cercare e andare ad offrire Qua abbiamo un Delahat che è buono perché sta intorno ai 5000 crediti, a 2004 quindi possiamo andare ad offrire Qua abbiamo un World in cui prezzo minimo sta sui 3000 crediti Quindi a 450 si può andare ad offrire Poi ne abbiamo altri però io direi di andare, di spostarci su questo qua Anche perché il profitto con questa carta è maggiore Questo si vende sui 5000 crediti quindi più o meno la tassa sarà di, boh non lo so sarà Sui 500 crediti immagino No è per 10.000 quindi sarà Sui 250 crediti quindi a 3000 crediti sarebbe un'ottima cifra Qua vediamo che è appena stato messo una 4.600 quindi Oltre i 3.300 direi che Andrebbe costare troppo Quindi poi abbiamo dicevo qua abbiamo un Gamboa Il cui prezzo minimo no è troppo alto Più abbiamo un Rose questo qua Che sta minimo a 7000 crediti E quindi andiamo ad offrire Qui abbiamo un Figura Che sta sui 2000 crediti Quindi andiamo ad offrire anche per lui Qua abbiamo un Walters Che starà sui 500 crediti direi che possiamo anche perdercelo Qua abbiamo un Liverman Che sta sui 2000 crediti Quindi a 300 è ottimo Andiamo subito Torniamo di qua perché Non vorrei che ci avessero rilanciato qualcosa Abbiamo lui quindi Lui andiamo a rilanciare Nel frattempo come vedete abbiamo vinto Il Delaette e l'altro Puoi Figura Che mi sembra stesso sui 2000 Ora non mi ricordo 325333 Ok si Non è qualcosa di più Lui stava sui 1000 Tanto andiamo a mettere in vendita Delaette Come potete vedere il suo prezzo minimo è di 4600 crediti Quindi noi lo andiamo a mettere a 4005 Diciamo 4200 così È a 200 crediti in meno del compra ora minimo E quindi comunque è un ottimo profitto Nel frattempo qua ci rilanciano Prose Io me lo vorrei prendere Lui mi sembra stesso sui 2000 Quindi anche lui ci può stare Word Non mi ricordo su quanto stesse Però Comunque stava su una buona cifra Qua Direi di metterlo a 2000 Perché quella cifra là mi sembra un po' finta E direi che per questo momento è tutto Da Maxer196 È sempre tutto Vi ricordo di iscrivervi al mio canale Che trovate qui sotto in descrizione E ci si becca nel prossimo video Bella